Penso che sia normale, forse a volte è meglio non avere altre possibilità perché magari sei costretto a farlo una cosa che mi piace tantissimo perché rimanere legato al Milan e poter allenare i giovani penso sia una grande soddisfazione soprattutto all'inizio. D'altro punto di vista c'è la possibilità di giocare ancora in Serie A e di correre, di andare in ritiro e di far gol per cui penso che tutti capiscono come sia difficile poter prendere una decisione che comunque prima o poi dovrà essere presa e che prenderò. Beh quello non dipende da me, si sa che io per il Milan farei qualsiasi cosa per cui non bisogna certamente chiederlo a me, io posso solo dire che l'affetto che mi ha circondato è qualcosa di straordinario per cui insomma se resterò al Milan inizierò questa nuova avventura, se andrò a giocare ancora tornerò qui e farò qualcosa di bello per questa maglia che mi ha dato tantissimo per cui insomma vedremo in queste ore, adesso sarò a pranzo con Gagliani e vedremo di prendere la decisione più corretta e più giusta. No, ha rafforzato un po' la mia idea, io ho sempre pensato che di stare ancora bene, di poter ancora far gol e di poter essere ancora importante per il club dove milito. Poi mai avrei pensato insomma dopo essere stato fuori per un infortunio 40 giorni di entrare e fare quel gol in quel modo nell'ultima partita, è stato tutto bellissimo e forse sarebbe meglio lasciare questo ricordo fantastico. E insomma non è una decisione molto semplice che però alla fine insomma dovrò prendere e come sempre seguirò il mio cuore che poi mi ha fatto sempre fare le scelte migliori perché ragionarle troppo forse non vale la pena perché è una soluzione e poi insomma non la trovi mai. E lui assomiglia tantissimo al papà ma penso che in primavera lui, Simone, Andrea Ganze, Comi, Comi che ha fatto molto bene, mi piace molto anche il suo modo di essere e il suo modo di proporsi e penso che ci sono giorni molto interessanti, Stefano e Sciaravi che potranno crescere e fare molto bene. Per cui insomma penso che il Milan come rosa di attaccanti giovani sia a posto. No, no, l'ultimo no perché ci ritroveremo sicuramente, non so in che campo, dove, però insomma il mio rapporto con loro come ho sempre detto è qualcosa di straordinario. Li saluto a tutti, gli auguro buon lavoro a chi lavora, buone vacanze a chi ha la fortuna di andare in vacanza e poi insomma ci vediamo presto e forza Mila. Ciao. Ciao.